Il mondo dell'arte e i suoi protagonisti non sono mai stati esenti dal giudizio e dalla valutazione di parti terze, ma soprattutto gli artisti, le cui opere sono sottoposte a valutazione di terzi, di giurie, di professionisti, così come del pubblico generico. Nel corso della propria carriera gli artisti vengono valutati e visionati da parte dei galleristi e dei collezionisti come se fossero sotto una vera e propria lente di ingrandimento, andando ad analizzare oltre i fattori estetici, artistici e di valori di mercato anche le capacità e l'unicità e soprattutto la qualità della ricerca artistica cercando così delle validazioni pubbliche. Queste validazioni avvengono anche tramite i premi, i concorsi e le residenze d'artista. La partecipazione ad uno di questi o addirittura la vincita permette all'artista di avere una grandissima validazione nazionale o internazionale, creando delle solide basi per il proprio futuro da artista professionista. Queste validazioni diventano dei punti cruciali su cui galleristi e collezionisti possono basare la propria scelta e aprono altresì delle ulteriori possibilità di collaborazioni o di partecipazioni a premi ancora più importanti e più grandi, offrendo così l'opportunità di creare un network di collaborazioni, di conoscenze internazionali e spesso di altissimo livello. Questa è la vera forza dei premi, dei concorsi e delle residenze d'artista. Ma oggi ce ne sono davvero migliaia e spesso nascondono esiti non del tutto soddisfacenti. Per questo è fondamentale capire nel dettaglio cosa sono, come funzionano e a che cosa servono e soprattutto quali opportunità possono offrire e ancora di più capire come approcciarli, come farne parte, come iscriversi, come leggere un bando di concorso e avere così più possibilità di vincere ma soprattutto di capire quali sono serie affidabili o meno. All'interno del corso scopriremo che cosa si intende per premio, concorso e residenza d'artista. Tre vie, tre possibilità, tre opportunità diverse ma soprattutto tre approcci diversi da valutare i momenti specifici della vostra carriera d'artista per trarne il massimo vantaggio. Per questo vi spiegheremo nel dettaglio come selezionarli, come partecipare e ancora la predisposizione del materiale da presentare, come presentarsi, con quali strumenti, il portfolio, lo statement, come scriverlo e soprattutto come creare un progetto su misura per poter partecipare e in qualche modo ambire alla vittoria. Ma per fare questo è fondamentale capire il bando, capire quali requisiti, capire che cosa ci chiedono, quanto ci costa, quanto tempo ci metteremo, fare un piccolo business plan del progetto, ancora l'importanza della giuria, come vengono strutturate, chi sono e perché è importante conoscerli prima. Impareremo quindi ad analizzare gli enti organizzatori, a capire come è strutturato qualsiasi bando, a creare un modello di approccio alla tematica e ancora a capire che cosa sono l'opportunità di sponsorizzazione, di fundraising per la partecipazione, ma soprattutto impareremo a conoscerli e a valutare quali sono quelli giusti per la nostra carriera. Piccole o grandi strategie che vi porteranno a far chiarezza nel mondo dei premi, dei concorsi e delle residenze d'artista.